Bella ragazzi, eccoci nel video consueto dei pronostici, oggi arrivo un attimino in ritardo ma ragazzi ho avuto una settimana lavorativa abbastanza impegnativa e oggi pomeriggio sono crollato, quindi adesso sono le 5 passate, lo registro, lo edito e appunto ve lo carico subito su youtube mi raccomando il massimo sostegno per questa serie perché me la chiedete su instagram, molti di voi appunto mi chiedono quando esce, a che ore e tutto, però nelle ultime 2-3 episodi like non mi stanno accontentando, quindi in questo ve ne chiedo almeno 300, almeno 300 like se no la serie non continuerà e ragazzi io ve lo dico, adesso questa settimana l'ho portata lo stesso però se no non continua, quindi almeno 300 like e seguitemi su instagram il link qui sotto in descrizione Allora, giornata di campionato, molto molto interessante, non ci sono forse dei big match pazzeschi però per quanto riguarda la schedina non è facilissimo buttarla giù perché ci sono quote anche basse quindi mi sono dovuto inventare anche un po' delle giocate un po' particolari Infatti partiamo subito da Juve Spal, Juve Spal domani sabato alle ore 15 l'1 era troppo basso, cioè ragazzi l'1 era troppo basso quindi sono andato a giocare 1 più multigol 2-5 che è quotato 1-53 Ok? L'1 era 1-28, quindi la Juve deve vincere, ci devono essere dai 2-5 gol, secondo me uscirà penso quasi sicuramente, mi tocco però ok Quindi appunto Juve Spal 1 più multigol 2-5 Poi Samp Inter, sempre domani alle ore 18, semplice, multigol 1-3, quindi ci dovranno essere dagli 1 ai 3 gol, non più di 3 gol, quotata 1-55 Anche qua non mi sento di mettere il 2 dell'Inter perché chissà per la legge dei grandi numeri l'Inter dovrà perdere o pareggiarne 1 prima o poi Quindi vado appunto a ripararmi con questo multigol 1-3 Poi, sempre sabato, l'anticipo della serana alle ore 20.45, Sassuola-Atalanta, partita bellissima secondo me, gol, quotata 1-50 Due squadre che in difesa ballano ma in avanti segnano molto, quindi gol a 1-50 Poi domenica il launch match, Napoli-Brescia, Napoli che è chiamato a vincere ragazzi perché già ha perso col Cagliari in modo clamoroso E anche qua vado a giocare 1 più multigol 1-4 perché l'1 era troppo basso Invece questo multigol è molto interessante, questo 1 più multigol perché è quotata 1-80 L'1 era 1-28 ragazzi, veramente basso, quindi anche qua il Napoli dovrà vincere e in totale la somma gol della partita dovrà essere dagli 1 ai 4 gol Poi Lazio-Geno ore 15, che partita ragazzi col Genoa abbiamo sempre difficoltà soprattutto all'Olimpico L'anno scorso abbiamo vinto 4-1 Però io ho molta paura, però 1-1, comunque la quota è anche buona 1-48 Quindi, mamma mia, incrociamo le dita, non dico niente Poi, Lecce-Roma, sempre alle ore 15, due giallorosse si affrontano, over 2-5 Anche qua il 2 della Roma non era altissimo e poi comunque chissà che ci sia qualche sorpresa Boh, speriamo, dall'Aziali io lo spero Però, ripeto, secondo me sarà una partita comunque ricca di gol Over 2-5, quotata 1-45 Poi, Udinese-Bologna, sempre all'Air 15, anche qui partita veramente da tripla perché l'Udinese deve fare assolutamente punti E il Bologna comunque deve ripartire, dopo la sconfitta con la Roma è un pareggio un po' deludente col Genoa Quindi anche qua vado a giocare gol perché mettere un risultato 1-2, ma è troppo rischioso Quindi gol, quotata 1-70, chissà che magari esca anche un pareggio con gol, ad esempio Poi, passiamo appunto a domenica alle ore 18, Cagliari-Verona Il Cagliari viene da tre vittorie, il Verona viene da ottime prestazioni e da un pareggio a rete bianca con l'Udinese Qua vado a giocare, segna gol, squadra ospite, quindi il Verona deve fare almeno un gol Quotato a 1-45, comunque la quota è interessante Poi, il posticcio posterale delle 20-45 di domenica, Milan-Fiorentina Milan-Fiorentina, Milan che regge c'è dalla brutta sconfitta col Torino Quindi deve fare punti, ma secondo me X2 Secondo me la Fiorentina andrà a strappare almeno un punto a San Siro, è veramente in forma la Fiorentina E secondo me la Sferta può giocare anche meglio con i contropidisti che ha Chiesa e Riberia, ad esempio Quindi X2 e la quota è 1-55, quindi una quota anche abbastanza golosa E poi concludiamo con Parma-Torino lunedì, ore 20-45, gol Anche qua secondo me partita abbastanza imprevedibile perché il Parma in casa fa fatica Il Torino in trasferta invece gioca bene Però, boh, non lo so, Parma magari è in fiducia dopo la vittoria col Sassuolo Quindi non mi sento di dire che vinca il Torino Quindi ripeto, gol, quotata 1-70, la quota comunque è interessante Quindi ragazzi, praticamente con 3 euro ne vai a vincere 332 E con 5 euro 553, quindi con 10 euro ne andrai a vincere 1100 e rotti Quindi ragazzi, ricapitolando velocemente USPAL 1 più multigol 2-5 San Pinter multigol 1-3 Sassuolo-Atalanta, gol Napoli-Brescia 1 più multigol 1-4 Dimenticavo, Sassuolo-Atalanta, gol Lazio-Genoa 1 Lecce-Rome over 2,5 Udinese-Bologna, gol Cagliari-Verona, segna gol Squadra ospite, cioè il Verona Milan-Fiorentina X2 Parma-Torino, gol Quindi ragazzi, mi raccomando 300 like per questo video Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Bella